Eccoci qua, maestro Chico D'Alessio, dal grande D'Agostino. Allora abbiamo un pezzo nuovo e va bene, lo voglio far ascoltare un pochino. Penso quindi praticamente... Dopo la cancellatura vai direttamente a ritornare. Ok. 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 Perché si tu, da ma carizzo l'anima Si sono un, e le casciute l'anima Se io pensavo come fosse stata in amica Senza te incontrari, io conoscevo il gelosio E ancora tanti auguri, amore mio Cosa ne pensi Enzo? Enzo, cosa ne pensi? È bellissima, mi sono emozionato Mi sono emozionato Stavi mandando un messaggio? A mia moglie, ho scritto una canzone su di te Tanti auguri A Marilene, ora ci mando proprio Amore mio Tanti auguri, auguri, auguri Sei un grande Agosti Ah